Presidente, per noi è molto importante l'applicazione di questa normativa che riguarda gli acquisti verdi, che riguardano i CAM, i criteri ambientali minimi. Ovviamente c'è da registrare il fatto che, mentre sono stati fatti i decreti per i criteri ambientali minimi, l'applicazione purtroppo risulta ancora troppo poco efficace, nel senso che ancora i bandi contengono in pochissima parte questi criteri ambientali minimi. Un aspetto che noi avevamo sottolineato riguardo agli acquisti verdi, l'avevamo sottolineato con forza durante l'approvazione della legge rifiuti, in cui avevamo chiesto di inserire alcune azioni, in particolare una delle azioni era quella di vietare l'utilizzo di stoviglie monouso, almeno nelle feste e poi anche nelle mense pubbliche. Alla fine da quell'emendamento che fu bocciato, però nacque un intervento della maggioranza che era meno forte rispetto a quello che proponavamo noi, ma che ha portato a scrivere comunque nella legge rifiuti che la Regione, nell'ambito delle politiche della promozione degli acquisti verdi, promuove l'acquisto e l'utilizzo di materiali riutilizzabili nei servizi di riflessione pubblica. Bene, secondo noi quell'impegno e l'impegno che ci si prende oggi approvando questo piano deve diventare concreto. Come fa la Regione a farlo diventare concreto? Beh, per prima deve cominciare ad applicarlo. E quindi noi chiediamo un passo perché, come è stato detto nel piano, una parte importante è la comunicazione. Bene, allora l'importante sono anche i buoni esempi. Siccome sappiamo che la Regione ha varie convenzioni, sia con bar, sia con mense, per quanto riguarda appunto dove sono dislocati gli uffici regionali, noi chiediamo che quando vengano rinnovate, e mi sembra di capire che in rinnovo ci sono alcune convenzioni, che la Regione ponga delle condizioni che sono proprio in linea con quanto dicevamo. Ed in particolare noi chiediamo che vengono inserite nelle clausole per la fornitura del servizio mensa l'acqua sfusa, l'acqua del sindaco, perché vogliamo disincentivare l'utilizzo dell'acqua in bottiglie di plastica e dove tecnicamente è realizzabile, soprattutto nelle mense, questo è già possibile, in parte già avviene, vengano utilizzate solo stoviglie riutilizzabili, quindi non monouso, dove non tecnicamente è realizzabile, ad esempio questo potrebbe essere un bar, penso anche addirittura alla buvette, si utilizzano stoviglie compostabili e non si utilizzi più la plastica. Inoltre si mettano delle postazioni perché gli utenti riciclino, secondo i vari contenitori, quello che è carta, quello che è compostabile e quello che è plastica. Ad oggi vediamo che nelle strutture vicine alla Regione, interna alla Regione, questo non c'è, quindi prendendo questo impegno diamo il buon esempio in questo percorso che anche noi riteniamo importante. Grazie.